De Rossi si conferma il remida del calcio italiano, sembra veramente che tutto quello che tocca si trasforma in oro. Per lui è la quinta vittoria in sei partite di campionato, oltre al passaggio del turno in Europa League contro il Feyenoord. Quindi veramente il suo cammino starà sentando la perfezione anche perché bisogna partire dal presupposto che ha ereditato una Roma che era reduce dall'eliminazione in Coppa Italia. Contro una delle peggiori Lazio degli ultimi tempi, una squadra che stava nona in classifica, questo non va mai dimenticato. Praticamente De Rossi ha raccolto le macerie della Roma e adesso ha piazzato 15 punti su 18 e anche nella partita contro l'Inter, che è tra le squadre più forti d'Europa oltre che la più forte d'Italia. La Roma ha fatto un ottimo primo tempo e nel secondo ha avuto due palloni dei altri a tre che purtroppo Lukaku ha cestinato. Quindi a mio parere veramente il cammino di De Rossi fino a questo momento è stato praticamente perfetto. Oltretutto De Rossi sta facendo un qualcosa che risulta difficile anche a molti allenatori più esperti e navigati di lui, ovvero il turnover, ovvero la gestione dei calciatori della Rosa. Una Rosa che comunque ha personalità importanti, giocatori di primo livello e non è affatto facile scegliere, alternarli. Poi tra l'altro si è dimostrato anche un allenatore molto polietrico dal punto di vista tattico, dato che ha schierato la difesa a tre, ha schierato la difesa a quattro, comunque ha sempre portato a casa i risultati. Focalizzandoci su questa sera, d'altronde quando tu hai tre grandi difensori come Smalling, Diga e Mancini, sinceramente è difficile tenerne fuori uno. E devo dire che Smalling è tornato veramente bene in campo, sono mancati tanto i suoi anticipi, no? È un giocatore di testa imbattibile, è un giocatore che gioca sempre in anticipo e lo fa anche bene, Diga veramente è tornato ancora più convinto dei suoi mezzi dalla Coppa d'Africa e vabbè, poi Mancini ha una certezza, come sempre le nostre note più dolenti sono sugli esterni, ma fino a un certo punto, nel senso che purtroppo Angelinio ha sofferto tantissimo Bellanova, ma con l'ingresso in campo di Spinazzola abbiamo sistemato la situazione su quella fascia. Angelinio, d'altronde, è un giocatore che dà il meglio di sé in fase offensiva, oggi purtroppo è riuscito a crossare, anche se in maniera molto pericolosa, praticamente quando ha pennellato la palla per il colpo di destra di Mancini, purtroppo è riuscito a spingersi in avanti solamente una volta. A destra Christensen veramente si è mangiato un gol grosso come una casa, si è impegnato, ma insomma i suoi limiti sono sotto gli occhi di tutti. Invece il centrocampo francamente con Cristante, Paredes e Pellegrini devo dire che abbiamo trovato la quadratura della quadratura del cerchio. In attacco credo che sia stato giusto dare un po' di respiro, dare un po' di riposo a Lukaku. Azmun è entrato in azioni decisive del primo tempo, perché si è guadagnato il rigore, perché comunque ha dato un assist che il 99,9 periodico dei calciatori avrebbero segnato a porta vuota, ma invece purtroppo Christensen non ha fatto questo. e poi nulla, che dire, Di Bala è il gioco del calcio assolutamente strepitoso, assolutamente fantastico, 13 rigori su 13, un gol da 20 metri che ti sblocca la partita, un 1-2 con Lukaku che fa ben sperare per l'immediato futuro. E appunto, oltre a Spinazzola che è entrato molto bene in campo, io sono felicissimo di come Lukaku si è entrato in campo, con il piglio, con la determinazione, forse davvero questo giocatore aveva bisogno solamente di rifiatare un po'. Quello che è entrato veramente male in partita è stato Renato Sanchez, che c'è il passo veramente dell'ex calciatore, è incomiabile comunque il tentativo di De Rossi di recuperare anche lui, perché praticamente li ha fatti giocare tutti in rosa, a parte Ebram che ovviamente è ancora infortunato, però davvero c'è un passo di un 50enne, veramente la Roma, anche se l'ha fatto giocare pochissimi minuti, con lui in campo ha veramente rischiato. Quindi, bene così, tanti importanti spunti di riflessione che fanno ben sperare per l'immediato futuro, che sono il Monza, altra bella squadra, e il Brighton. Come sempre questo è il mio pensiero, in quanto tale opinabilissimo, ora attendo i vostri commenti, insomma, per sapere cosa ne pensate della partita. Buona serata.